Il mondo migliore e più giusto nel piccolo riusciamo a dimostrare, secondo noi, che si può costruire questo tipo di pezzo e che funziona anche senza le logiche del profitto della sopportazione, senza che nessuno debba guadagnarsi la pelle di bambinato, con nessuno di penso, è solo la questione, perché il più in chiudo del mondo che c'è quando i cancelli di questa pesca, che ci sono pochi giorni, poco più di un settimana in un anno, gente come Veneto, i grandi imprenditori, 40 morti, si perdono, 2 comprensioni, 3 comprensioni, 3 comprensioni, che è la perdita dell'apparto per le autostrade, in questo mondo quasi c'erano queste cose, in questo mondo nelle televisioni, ogni giorno c'erano i lavori, scuole, università, cercano di farci passare il messaggio che il nostro nemico, il nostro male peggiore è chi sta peggio di noi, sono i disperati che arrivano sui balconi e ci dicono che noi non dobbiamo accogliere, e noi vogliamo accettare anche il stressaggio da questo porto, per noi, con questa pezza, sono tutti benvenuti, trani artisti, trani fascisti, trani autori, trani e trani autori, il nostro nemico è che lo stiamo portando tutti insieme, sono benvenuti e così abbiamo portato il bello e il significativo, quindi grazie a tutti e a tutti voi, riusciamo a farlo ogni anno, vogliamo continuare a farlo, grazie per essere qui, adesso ho un lavoro a farlo ogni anno, certo vi darà alcune indicazioni, anche per passare una serata di feste, di divertimento, di sicurezza ovviamente, con responsabilità, sempre, senza appunto nessuno che deve insomma essere al di sopra di qualcun altro, cerchiamo tutti insieme con responsabilità di goderci da festa, ma anche insomma di divertirci tutti e di creare una bella persona del prima, grazie, buon concerto e buona sera!